Ciao a tutti ragazzi, io sono Workart e oggi sono qui per portarvi un nuovo video. In questo video vi proporrò un nuovo effetto di magia e il quale vedrà come principale protagonisti di quattro assi. Se più avanti ne vorrete mai il tutorial di questo gioco, fatecelo sapere nei commenti. Quindi detto questo, per non dirurgarmi troppo, vi lascio al video. Prima di tutto però lasciate mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi. Ciao! Bene, eccoci a questo gioco che come vi ho detto prima vedrà come principali protagonisti i quattro assi, che casualmente sono le mie carte preferite. Di fatti questo gioco ho voluto chiamarlo le mie carte preferite, appunto quelle che saranno chiamate principalmente in causa sono le mie carte preferite, quindi i quattro assi. Innanzitutto voglio mostrarvi i quattro assi e ve li vado a presentare anche, ok? Partiamo prima dall'asso di picche, l'asso più rognoso, più testardo, quello più difficile da trovare solitamente. Poi dopo abbiamo l'asso di fiori, l'asso più buono per eccellenza, l'asso più tollerante, diciamo. Poi l'asso di cuore, l'asso di cuore che sono i due assi gemelli. Quello che fa un asso fa anche l'altro. E dopo capirete anche perché. Ok, ora andrò ad utilizzare i quattro assi. Con i quattro assi innanzitutto vi vado a mostrare che sono ovviamente tutti di dorso, compreso anche l'asso di quadri che era di dorso, e lo metto in fondo per semplicità, così. Ora mi basta solamente schioccare le dita e il primo tra i quattro assi si gira a faccia in su, ok? Passo le carte sotto alla mano e il primo asso, l'asso di fiori, si gira a faccia in su. Ora tenterò di fare questo, di fare lo stesso procedimento, con tutti gli altri tre assi, quindi asso di cuori, quadri e picche, giusto? Perfetto. Nuovamente schiocco le dita, passo le carte sotto alla mano e si gira il secondo asso, l'asso di cuori. Ora, come vi ho detto prima, l'asso di cuori e l'asso di quadri sono gli assi gemelli, quindi quello che fa uno fa anche l'altro. Adesso giro l'asso di cuori, schiocco le dita e l'asso di quadri sarà il terzo asso a girarsi. Ora, l'ultimo asso è quello di picche, che come vi ho detto all'inizio è quello un po' più rognoso, un po' più difficile da trovare, ma anche difficile da far girare rispetto ai tre assi. Dato che comunque sia per cuori, quadri e fiori ci ho messo poco, mi è bastato solamente schioccare le dita. Per quello di picche invece dovrò fare lo stesso procedimento più volte forse. Innanzitutto, prima di tutto, vado a prendere i quattro assi di faccia e poi di torso, schiocco le dita e si gira l'asso di picche. No, è l'asso di cuori. Aspetta, riproviamo, perché come vi ho detto va provato più volte. Schiocco le dita, ah non ho passato le carte sotto la mano, ecco perché. Adesso sì che riesce, dai. No, l'asso di quadri. Allora, sta cercando un attimo di capire perché non si è riuscito. Forse perché ce l'ho un'idea. L'asso di picche è talmente rognoso che ha deciso di fare di testa propria. Ha deciso di scappare dagli altri tre assi, o perlomeno di voltarsi. Quindi, se io giro le carte di faccia, adesso sicuramente troverò l'asso di picche di faccia, giusto? No, anche questa volta non si è voluto girare. Eh, ce l'ha con me ragazzi, non ci posso fare niente. Però, posso provare. Aspetta, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sapete perché non si è girato? Perché l'asso di cuori è tangibile, ovvero toccabile, e visibile. Sia di faccia che di dorso. L'asso di fiori, uguale. Tangibile e visibile. L'asso di quadri, la stessa cosa dei due assi precedenti. L'ultimo asso, l'unico, che è solamente tangibile, ma non è visibile, è esattamente l'asso di picche. Che è scomparso. La sua anima è ancora qui. Ma, come potete vedere, non si può più vedere la figura, quindi non si può più vedere il picche qua, la A, le due A, i due simboli di picche. Ora proverò a fare una cosa. Proverò a ritrovare l'asso di picche in una maniera molto, molto, molto strana. Prendo la sua anima e la passo in mezzo al mazzo. Quindi ora, schioccando le dita, dato che l'ho passata di dorso, in mezzo al mazzo ci sarà una carta di dorso. E la carta di dorso è esattamente l'asso di picche. E la carta di dorso è esattamente l'asso.